Signori, allora eccoci qua in un nuovo video dove insomma era un bel po' che non facevo qualche video inerente all'e-commerce su come fare cose, tutorial vari e vi dicendo in questo video andiamo a parlare dei 5 punti fondamentali per far esplodere il tuo store durante il Q4 per chi non sa appunto che cos'è il Q4 è l'ultimo quarto dell'anno, cioè gli ultimi 3 mesi in sostanza dell'anno, l'ultimo pezzo dell'anno dove si va a fatturare, si vanno a fare molti più soldi rispetto a tutto quanto l'hanno messo insieme ok questo perché? Perché c'è Natale, perché comunque le persone tornano dalle loro vacanze, dalle loro vacanze in Liguria o quello che sia in Italia e acquistano, ok? Acquistano, 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 non vedono l'ora di fare regali perché magari c'è Halloween, c'è Natale, ci sono tante altre festività quindi bisogna sapere cosa vendergli, come venderglielo e soprattutto che tipo di strutture avere andiamo subito al dunque sul primo punto che è l'organic growth per organic growth intendo crescita organica e soprattutto rotazione di post, questo cosa vuol dire? vuol dire che è una cosa veramente di fondamentale importanza, fare anche content marketing, quindi andare di organico ora come hai visto nell'ultimo periodo il mercato è totalmente cambiato, Facebook Ads non performa più come prima TikTok Ads sicuramente è al primo posto, noi ad esempio sia in agenzia sia per i nostri store sia ad esempio sui clienti di Passivicom, la nostra agenzia riferente proprio al dropshipping e all'e-commerce stiamo facendo alla fine per il 90% dei clienti TikTok Ads non perché ci piace di più, non perché ci sono i balletti sopra e le varie stronzate ma perché funziona di più, abbiamo costi minori e abbiamo più risultati e soprattutto meno ban e meno rotture di palle rispetto a Facebook che ultimamente performa insomma non tanto bene ma una cosa molto importante è proprio l'algoritmo di TikTok che è un qualcosa di fenomenale adesso è come Instagram anni fa che si poteva crescere in organico molto velocemente e anche con cose veramente semplici quindi se tu hai un prodotto che vuoi vendere magari in Italia o qualche altro tipo di paese ti consiglio assolutamente di andare di TikTok organico, di andare proprio a rotazione di post di andare a pubblicare tanto e vedrai comunque una crescita non da poco e avrai vendita in organico, questo vuol dire soldi gratis secondo punto molto importante è la struttura di AppSell e Backend questo cosa vuol dire? vuol dire che come ripeto da anni non vi basta fare le Ads, non vi basta fare le TikTok Ads e basta devi andare proprio a strutturare tutto quanto il funnel e la tua struttura di vendita del tuo store per fare AppSell per vendere il più possibile ai tuoi clienti, ai tuoi potenziali clienti quindi vendi un prodotto da 30 euro, 29, 90, quello che sia però poi gli vai a upsellare anche qualcos'altro e il tuo carrello medio va ad aumentare questo vuol dire che guadagnerai di più, vuol dire che farai più profitto vuol dire che comunque avrai anche più longevità per andare a reinvestire anche nelle Ads e poi tutta la parte di Backend, questo vuol dire email marketing tutta la parte di SMS marketing, recupero carrello tutte queste strutture che servono per andare a recuperare fatturato perso per fatturato perso si intende che hai una lista contatti, hai una lista email hai una lista di numeri di telefono chiamali, contattali, mandagli SMS, mandagli messaggi, mandagli un messaggio su Whatsapp mandagli un email, mandagli tante email, mandagli vari tipi di email strutturate per le festività o per delle offerte o per qualsiasi tipo di cosa per fargli acquistare ancora o fargli acquistare di più ok, sono soldi gratis, quindi mi raccomando approfittane terzo punto di fondamentale importanza è il come fare bene le TikTok Ads come ho detto noi ad esempio in agenzia su Passivicon che stiamo gestendo vari tipi di clienti tutti quanti approfitta adesso e stiamo facendo TikTok Ads però chiaramente con una struttura funzionale, replicabile che appunto riusciamo a testare vari tipi di prodotti che noi già abbiamo pretestato quindi di conseguenza possiamo dare un success rate sicuramente più alto però tramite TikTok riusciamo ad avere risultati molto migliori avere una crescita in organico e andare anche di ads i CPM sono molto più basse rispetto a Facebook ok, se adesso nel Q4 sicuramente andranno ad aumentare anche un pochettino i costi quindi a livello di CPM, a livello di costi per click, costi per acquisizione quello che sia ma è normale, insomma è l'ultimo quarto dell'anno ma è una cosa di fondamentale importanza sapere tu stesso come fare bene le TikTok Ads su questo tipo di approfondimento direi di andare a fare anche un video a parte dove ti spiego anche magari la nostra strategia di testing proprio per le TikTok Ads sia in Italia se comunque in generale per vendere il tuo prodotto che sia in dropshipping o non però è una cosa di vitale importanza sapere come fare TikTok Ads quarto punto anche questo veramente fondamentale è avere il team adatto per farlo tu cosa vuoi di preciso? vuoi affrontare questo Q4 in modalità sopravvivenza oppure vuoi affrontare questo Q4 facendo 100k, 500k, un milione di euro di fatturato? sicuramente vuoi puntare a di più però per fare questo di più ti serve anche un team strutturato per farlo quindi avere la persona che ti fa la customer service avere la persona che va a farti video UGC la persona che ti va proprio a fare da social media manager per quanto riguarda la pagina quindi gestire effettivamente la crescita anche in organico avere la persona che ti gestisce tutta la parte di back end quindi email, sms, recupero carrello, vendita telefonica eccetera eccetera poi eventualmente sì tutta la parte di media buying persona che ti va a ricercare il prodotto però è fondamentale avere un team o comunque un minimo di persone che ti aiutano oppure che facciano quello che tu non riesci a fare oppure che ti vanno a velocizzare quello che tu riesci a fare ma lo fanno anche appunto più veloce perché ogni persona deve fare una singola cosa è normale che magari tu che inizi adesso a fare dropshipping o vendere online il tuo prodotto o quello che sia è normale che ti ritrovi all'inizio a fare tutto quanto da solo quindi faccio le ads, faccio la ricerca del prodotto faccio la customer service, tutto quanto insieme però dopo un po' ti si fonde il cervello e non riesci più a fare niente 1-1 equals equals 35 quindi la soluzione è costruirti un team oppure se non hai un team quello che puoi fare è delegare tutte queste cose qua a un qualcuno come ad esempio può essere passivi come la nostra agenzia delegare proprio ad un team specializzato un team di professionisti che facciano tutto quanto al posto tuo e non devi stare lì anni, mesi a ricercare le persone giuste perché quella è la cosa veramente più difficile poi quinto punto di fondamentale importanza per questo Q4 se vendi in Italia quindi questo è riferito alla vendita in Italia ma anche in altri paesi come ad esempio la Spagna oppure altri paesi europei è avere il cash on delivery avere il pagamento alla consegna ora come ho detto il mercato adesso riguardante l'e-commerce, il dropshipping la vendita di prodotti, vi dicendo, è cambiato cioè se pensi di fare over 100k oltre le 6 cifre magari anche qualche milione di euro di vendite in Italia senza usare il pagamento alla consegna specie se inizi da poco o non hai molta esperienza ti verrà veramente difficile questo non vuol dire che non è impossibile ma è molto più difficile adesso vendere in dropshipping con spedizioni di 30-40 giorni quindi le cose che c'erano 5 anni fa e farle adesso quindi la soluzione è avere una struttura di cash on delivery di pagamento alla consegna dove puoi permetterti anche ad esempio di fare dropshipping in pagamento alla consegna questa è veramente una mana dal cielo ad esempio noi per quanto riguarda Passivicom abbiamo tutta la struttura di cash on delivery quindi tutto lo stock a disposizione per poter fare proprio dropshipping su quello stock senza acquistare necessariamente lo stock in anticipo quindi questo è veramente tanta roba e ci permette di avere un vantaggio competitivo enorme premessa noi non diamo a nessuno la risorsa nostra del cash on delivery o comunque dello stock a meno che la persona in questione non entri dentro il nostro programma appunto di Passivicom comunque a parte questo questi erano 5 punti da andare a trattare su come far esplodere il tuo store nel Q4 molto brevemente farò degli approfondimenti su TikTok Ads insomma fammi sapere cosa ne pensi anche di questi 5 punti e se vuoi anche approfondimenti nei successivi video e cose di questo genere comunque per questo video direi che è tutto qui Elvis torna a lavorare e fatturare perché insomma devo fare anche io qualcosa grazie a tutti Grazie.